Seconda vittoria di fila, quarto match consecutivo senza golo al passivo e presenza confermata ai piani altissimi della classifica. Un bel Cerignola regola per 2-0 al Monterisi il Sorrento e per una notte, quella tra venerdì e sabato, torna in vetta alla classifica nel girone C di Serie C in attesa del completamento del turno. Prova di maturità a quella della squadra di Giuseppe Raffaele che apre i conti con Vicentin e li chiude con il solito Salvemini. Le formazioni 3-5-1-1 con Ruggero a supporto di Salvemini nel Cerignola. Martinelli è il leader difensivo, corsie laterali affidate a Coccia e Russo. Sorrento disposto da Trovarelli in panchina per effetto della squadifica di Barilari con il 4-3-3. In avanti guadagni Musso e Bolsius. Lavora bene in verticale in avvio il Cerignola. Scambio Salvemini-Ruggero il 10 si libera di due avversari ma la mira è imprecisa sul momento più bello. L'audace capitalizza la pressione iniziale al 22esimo pennellata di Ruggero da destra. Vicentin a centroarea il più lesto di tutti e di testa batte del sorbo. 1-0 festa Monterisi e prima rete stagionale per il difensore argentino. Da apprezzare nel replay il tempismo di Vicentin, bravo a vincere il corpo a corpo con Colombini. Ispiratissimo Ruggero. Una sua giocata apre il campo a sinistra per Luca Russo. Doppio passo e tiro cross. Tascone manca l'appuntamento con il raddoppio per questione di centimetri. Al 33esimo ancora Ruggero per Vicentin che va di nuovo più in alto di tutti in aria ma non inquadra la porta. Ultimo lampo di un primo tempo che si chiude con il Cerignola in vantaggio e padrone del campo. Si riparte con Caro tenuto per Colangiuli nel Sorrento. Un giro di lancette e gli ospiti sono pericolosi. L'ex Fidelisandri e Benevento Bolsius sfrutta una percussione di Cangianiello. Controllo e calcio a giro. Pallo alla sinistra di Saracco. Pallo sfiorato. Smaltito il pericolo. Il Cerignola mette al sicuro il risultato. Campo aperto per Salvemini che entra in aria da sinistra. Stringe sul destro e con un tiro forte. Con il giusto effetto batte del Sorbo. 2-0 e centro numero 5 in stagione per l'attaccante ventotenne. Autore di una doppietta nel turno precedente sul campo della Turris. Gol con dedica speciale verso la tribuna per Salvemini. La reazione del Sorrento è tutta in questo colpo di testa di Bolsius su cross di Cangianiello. Pallone di poco a lato. Poi Raffaele dalla panchina la anestetizza con le sostituzioni. Tocca nell'ordine a Bianchini, Ligi, Parigini, Sainz-Maza e Tentardini e azzerando i pericoli. E festa al Monterisi. Quinta vittoria in campionato per il Cerignola che sale a quota 18 punti e domenica 20 ottobre alle 15 farà visita al Trapani. Sorrento nono a 13 è chiamato a ripartire sabato 19 alle 15 dal derby casalingo con il Benevento.